In tanti hanno deciso di sfidare le temperature rigide per partecipare alla diciassettesima marcia e veglia di preghiera a Dioce sana per la pace che si svolge ogni anno a Cosenza. È stata anche la prima per Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza Bisignano. Quest'anno più che mai sono state d'ispirazione le parole del Santo Padre che parla di globalizzazione dell'indifferenza nel 49esimo messaggio per la pace. Ad illuminare la marcia verso la cattedrale è stata la luce della pace di Bethlehem portata in città dagli scout a Gesci. C'è questa bella tradizione qui a Cosenza di trovarsi insieme per dire la nostra presenza e per dire anche la nostra speranza. Il tema di quest'anno è molto impegnativo e ci scuote come sa fare Papa Francesco e cioè uscire dall'indifferenza per dare speranza. Dobbiamo cominciare noi. Questa sera ognuno di noi poteva stare benissimo a casa al caldo. Se sta qui è perché vuole scuotersi e vuole scuotere con la propria partecipazione. Un appello che si rinnova ogni anno, molto importante, una giornata a cui tanti ormai credono, tutti, insomma perché in questi momenti, in questi periodi fare testimonianza su un tema così importante come qual è quello della pace nel mondo è un qualcosa che è assolutamente necessario. Quindi sono contento che ci siano molti cittadini. C'è anche la partecipazione consistente di molti sindaci della provincia di Cosenza. Questo mi fa piacere anche nella qualità di presidente di questa provincia.